Il comitato Salviamo il Salvabile ci mostra il laghetto della bella oasi naturalistica di Carossa, Pieve Dolmi, frutto del recupero di una cava con l'aiuto di lega ambiente. Si tratta di un luogo molto affascinante, metta di uccelli che qui nidificano e di varie specie acquatiche. Proprio la mancanza di acqua però fa sentire le conseguenze in termini di biodiversità, pesce in sofferenza, uccelli che non tornano più a far tappa in questo luogo. La pompa a disposizione dello specchio d'acqua è insufficiente alle necessità dell'oasi, ma una soluzione semplice a costi contenuti c'è, l'invito alle istituzioni ad adottarla quanto prima. Ci stiamo interessando da tempo perché notiamo una certa sofferenza abbastanza grave negli ultimi anni, soprattutto diciamo dovuta ai cambiamenti climatici da un certo punto di vista e soprattutto alla mancanza di possibilità di alimentazione per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico. Abbiamo sollecitato più volte l'amministrazione, speriamo, adesso siamo in trattative per poter creare i presupposti per poterla alimentare questa oasi. Parliamo di 100 mila metri quadrati di superficie umida, parliamo di un'osi che è nata dal recupero di attività estrattiva. La soluzione è già stata ipotizzata soprattutto da parte del Comune che è l'ente titolato per questo tipo di interventi. Hanno fatto un accordo, credo e speriamo che venga avanti anche come realizzazione, con il Consorzio Dugali per creare una presa d'acqua che si trova qui in adiacenza all'oasi con un costo relativamente basso per cui ci si aspetta che venga fatto questo tipo di intervento perché soprattutto quest'anno ci sono circa 50-60 centimetri d'acqua in meno, per cui comincia ad andare in sofferenza tutta la fauna e i pesci che vivono in questa zona.